Il nemico sta bruciando il nostro castello. Ridicolo! Il nemico sta bruciando il nostro canale. Il nemico sta bruciando. Il nemico sta bruciando il nostro canale. Il nemico sta bruciando il nostro canale. Il nemico sta bruciando. Il nemico sta bruciando il nostro canale. Il nemico sta bruciando il nostro canale. Il nemico sta bruciando. Il nemico sta bruciando il nostro canale. 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 Sì, non è vero. a 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